Non credo che Marco Carimoni cambierà la sua vita perché è candidato alla presidenza e la provincia di Lecco. Credo che abbia accettato una scomodità, ma l'ha accettata perché crede che il futuro dei nostri figli e del nostro paese merita che qualcuno sia con un piccolo onero. Il 6 e 7 giugno, tra destra e sinistra, scegli il centro. Vota Marco Cariboni.